Cercheremo, come diceva Alberto, di non annoiarvi perché l'ora è tarda e abbiamo avuto tantissimi stimoli. Non ultimo quello del professore. Faccio un commento se posso, ho trovato particolarmente interessante. Tra l'altro noi come gruppo Marshall McLellan lavoriamo sul rischio anche e quindi quello che lei diceva, e poi vorrei chiederle le aziende che sono passate velocissime quei loghi, che cosa stanno facendo? Perché dal nostro punto di vista le aziende più lungimiranti o più avanti sono quelle in cui l'HR lavora con risk management, proprio per provare a ipotizzare degli scenari futuri, però magari ci sono dei casi invece di best practice, ancora più avanzati. E se penso quando qualcuno mi dice ma la pandemia nessuno la poteva prevedere, la spagnola è stata cent'anni fa. Eh sì e no, nel 2016 il risk report di Marshall McLellan sviluppato con World Economic Forum aveva mappato il rischio pandemico nel 2016, non con altissima probabilità non l'aveva mappato. Quindi che cosa poi se ne fa l'azienda di questi dati? Dovrebbe sviluppare degli scenari che permettano di anticipare quantomeno e di prendere delle decisioni che poi quando il fatto accade, essere più pronti. vogliamo cominciare? Sì. Ok. Allora, quanto abbiamo? Amelia, dov'è Amelia? Il mio angelo custodia è andato via. Abbiamo circa 50, no scherzo, 25 minuti. Ma pure meno. No, 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 ma infatti staremo sul breve. La vera sfiga di arrivare alla fine e avere delle persone stanche e quelli che ti, come dire, prendono gli interventi migliori, però è il mio capo quindi non posso dire tanto niente a Marco sul tema degli interventi. Io comincio con un paradigma riprendendo quello che diceva Luca. Io cambierei il significato di HR. Io non parlerei più di human resources ma di high riskier function. Perché? Perché il tema del rischio ci porta necessariamente ad interrogarci sulla prospettiva. Adesso non me ne vorrà il professor Poli. Noi, è vero, il mio capo dice guardiamo a vent'anni, poi le business review non ho capito perché le fa settimanali o mensili. Ok? Va bene, però va bene. No, ma va bene, va bene, va bene tutto. Va bene tutto. Siccome abbiamo degli amministratori delegati, degli shareholder che vogliono le trimestrali, le semestrali e quant'altro, noi come HR, high riskier function, dobbiamo provare però a proiettarci nel futuro. E quindi vado qui con una prima domanda. Una delle prime domande che ci arriva, una delle domande, delle diverse domande che ci è arrivata è ma voi che tipo di strumenti o di approcci vedete per identificare le competenze del futuro? E qui ci viene in salvo o ci dà sicuramente un supporto quello che ci diceva il professor Poli, cioè noi se continuiamo a ragionare sulle legacy skill e le proiettiamo nel futuro non facciamo altro che fare una cronostoria in anticipo di quello che abbiamo visto già accadere prima. Ed è il motivo per cui, e ringrazio anche Alberto Signori di avercelo detto prima, Brembo nell'andare ad affrontare il tema dello skill assessment, quanti di noi nel tempo hanno fatto degli skill assessment, parola ormai utilizzata da vent'anni, ha visto che funziona meglio ragionare sulle competenze non guardando a quello che ho e quindi qui ahimè dovrò dire anche al signor Mercer che le tassonomie delle competenze, le job architecture cominciano un po' a scricchiolare, ma noi ne siamo consapevoli e ci stiamo già attivando per questo, attenzione, ma dobbiamo ragionare su quello che è il futuro e il futuro come lo si fa con il partenariati di futuro, cioè operatori che lavorano su filiere di valore e ragionano su quella che sarà la dinamica futura. Ognuno di voi nella loro supply chain, nelle loro operation hanno delle filiere di valore estese. Qualcuno dice ci sono anche degli ecosistemi aperti verso partenariati che ci possano permettere di ragionare sulle competenze future e vi dico che ragionare sulle competenze future ci dà la possibilità anche di capire dove le andremo a cercare quelle competenze, ma se sono così, come dire, diverse da oggi, dove le andremo a generare quelle competenze. Perché se stiamo lavorando correttamente non avremo bacine di riferimento perché quelle competenze stanno ancora gemmando all'interno di percorsi di studi che devono portare alle maturità piuttosto che alle lauree e quant'altro. Quindi il primo punto è che strumento ci aiuta sulla visione del futuro così come la possiamo intendere all'interno delle high riskier function e lo strategic workforce planning. Adesso c'è un revamping dello strategic workforce planning, è solo che c'è un problema, si fa molto forecasting che per carità va benissimo. Già il casino più totale è trovare i dati, puoi pensare che siano affidabili, poi pensiamo che li possiamo proiettare, ma già così va benissimo. Però la vera diversità, cioè il fattore critico distintivo, PayPal non è nata perché si pensava ai canali bancari tradizionali. PayPal è nata perché si voleva virtualizzare lo scambio di denaro. Ovviamente il baratto mi pare che abbia qualche centinaio di anni, ma la virtualizzazione del baratto è una cosa completamente diversa ed apre agli scenari e anche alla capitalizzazione che ha fatto sì che Elon Musk potesse entrare con un lavandino e comprarsi Twitter, che mi pare è quello che è successo negli scorsi giorni. Quindi strategic workforce planning è il radar del futuro, ma nel farlo dobbiamo farci aiutare. E qui, poi passo a Luca per le altre domande, e qui abbiamo una tecnologia che comincia ad aiutarci che è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ragiona su delle mappe sicuramente di dati storici, ma ragiona su degli algoritmi che vengono fatti dai data scientists che ragionano su elementi di futuro. Quindi quando voi vedete strategic workforce planning fatti con gli Excel, l'85% in questa stanza lo farà così, dovete pensare che state semplicemente proiettando una pianificazione che già conoscete, la state semplicemente linearizzando. Forse utilizzerete dei modelli bayesiani se siete così evoluti, ma non stiamo lavorando sul futuro. E quando ci sono i piani a tre, a cinque anni, io devo ragionarci perché per avere una competenza tra dieci anni, questa competenza la devo poter cominciare a mettere negli ITS, negli istituti tecnici superiori e nelle scuole due anni fa, perché il ciclo di studi si deve chiudere cinque più tre, addirittura adesso stiamo chiudendo quattro, più tre, più quattro. Comunque o sono otto anni o sono dieci anni, ma ci vuole quello per fare il farmer di una vera e propria competenza. Quindi una competenza se la voglio e se è una competenza nuova ci metterò dieci anni per generarla. Sì, poi l'upskilling accelererà qualcosa, ma non potrà accelerare veramente sulle nuove competenze. Luca. Sì, è arrivata un'altra domanda che in realtà era per Francesco Tutino di Vecco che però ha dovuto lasciarci, aveva learning call e doveva partecipare proprio oggi e quindi io mi trovo costretto a girarla ad Alberto Signori che è qui perché comunque c'è analogia, scherzo Alberto, si presta assolutamente a un contesto industriale anche come il vostro. E la domanda prendeva appunto dalle belle cose che ci ha fatto vedere Ravin in apertura, della messa in discussione dell'organizzazione così come la conosciamo da sempre, quindi gerarchia, ruoli, organizzazione, accountability, solida, importante, messa in discussione che vede invece un'organizzazione sempre più agile, sempre più fluida, sempre più gassosa anche dove il concetto di network diventa centrale. Poi Kate ha ripreso anche, se volete estremizzando un po' questo punto, lei ha citato il lifestyle contract che prende il posto dell'engagement contract e io tra me pensavo con buona pace della CGL e dei nostri contratti collettivi. La domanda è ma questi spunti e grazie alla consulenza perché ce li fornisce, ce li deve fornire, con qualche anche caso concreto, perché poi Unilever non è virtuale, ma sono applicabili in un contesto industriale pesante, con stabilimenti, con contratti di primo e secondo livello che ci ingabbiano noi in qualche modo, oppure tutta teoria, sono tutte belle cose ma che poi assolutamente inapplicabili da noi, in realtà industriali importanti. Quindi passi a me il microfono. Un Alberto per un Alberto. No, la risposta è sì, arrivo alla sintesi. Credo che siano strade percorribili in alcune aree. Nelle aree più orizzontali e quelle in cui è più semplice applicare principi di organizzazione agile. Nell'automotive, così come nel bianco, d'altro canto sappiamo che c'è un luogo organizzativo che si chiama piattaforma, che è lì dove i progetti si sviluppano e vengono portati da fasi prototipali allo start of production, credo che la piattaforma, che è anche luogo di applicazione di metodologie Scrum, sia il luogo dove applicare in parte le cose che diceva Ravin, che ho sentito oggi, che avevo già sentito ad Atene recentemente e che non sono fantascienza. Quindi se la tua domanda è fantascienza, no. Non sono sicuro che siamo totalmente pronti a disegnare mission individuali totalmente skill driven. Si può saltare il livello del job? Non credo si possa saltare quello della famiglia professionale. Quindi secondo me può saltare il livello logico organizzativo del job, non salta quello dell'appartenenza funzionale. Questo è come cerchiamo noi di fare le sperimentazioni agile là dove si pratica lo Scrum, nelle piattaforme. Grazie mille. A pranzo, e poi ti ripasso la palla, cinicamente non dirò il nome, qualcuno ma era un'azienda industriale ha detto se io avessi fatto vedere al mio amministratore delegato che c'erano 241 FTI, quelli che ha fatto vedere Ravin, di persone appunto con tempo libero per fare altro, quindi per essere scerati in progetti, e lui mi avrebbe detto licenziale subito. Altra domanda è come si gestisce la multigenerazionalità se il focus è sempre sui giovani talenti? Per tutta la fascia dei talent più senior quali progetti di upskilling e di reskilling? Ne parlavo con alcuni colleghi durante il pranzo. Effettivamente c'è un po' tutta questa attenzione su, come dire, questi figli capricciosi che si approcciano al lavoro, sono sempre un po' alla ricerca della volontà di cambiare, un po' è minore il rateo, come dire, del sacrificio organizzativo che vogliono sostenere e quindi tutte le nuove generazioni e a oggi catalizzano molto il nostro o la nostra attenzione, le nostre energie. Peccato però, no peccato, considerato ciò dobbiamo pur considerare la compresenza di più generazioni. Allora lì dovremmo cominciare a scendere su alcune cose che ispirano queste generazioni. Ed è diverso, ciò che ispira i ragazzi è sicuramente diverso da ciò che ispira altri tipi di generazioni. E avete visto nei dati che avevano fornito Anna Chiara insieme a Valentina, insieme a Laura, che ci sono anche, come dire, energie, comportamenti, competenze soft che muovono diversamente la voglia e la motivazione di queste generazioni. Noi non dovremmo più fare le nostre people strategy, sì, queste sono sempre un modo molto ordinato di fare le cose, ce lo richiedono, dobbiamo annettere un allegato alla nostra business strategy, magari ce lo stanno chiedendo anche i nostri shareholder per farci giurare col sangue quante persone e quanto sarà il costo del lavoro. Noi quello che dovremmo creare, essendo degli high riskier function, sono delle multi generation strategy che voi che siete molto più tecnici di me chiamate differenziazione dell'employee value proposition. Cioè alla fine voi avete già dei meta concetti che utilizzate, cioè degli aggregati che prendono un po' la parte reward, un po' la parte sviluppo, un po' la parte formazione, un po' la parte organizzativa e quant'altro e li combinano all'interno di quella che viene identificata come employee value proposition. Cosa dobbiamo accettare però? Accettiamo che aumenta il livello di complessità perché non avremo più l'employee value proposition con cui poi l'employer fa attività di branding sul mercato ma avremo un'offerta che si differenzia in funzione delle caratteristiche del singolo e quindi l'importanza della unicità. Pensate, accettiamo l'unicità come vera chiave di apertura della diversità ed inclusione delle generazioni, delle genere, delle disabilità all'interno delle nostre organizzazioni. Aumenta il livello di complessità, è vero, ma è pur vero che oggi molti di voi hanno dei mal di testa che presentano a Sara piuttosto che a Roberta in termini di la mia salary policy non mi basta più, non riesco a cogliere più le esigenze, ho un problema di attraction, ho un problema di retention. Non avete un problema, avete n problemi, tanti quanti sono gli elementi generazionali che li caratterizzano e la differenziazione delle risposte. Se chi ha portato i beni nel consumo ha sposato ormai da forse otto anni elementi di omnicanalità, ma perché noi che abbiamo a disposizione un materiale umano così diverso tra di loro non possiamo sposare un concetto di diffusa personalità e unicità di queste persone. Ovviamente non potremmo arrivare al singolo, ma potremmo arrivare a degli aggregati di persone che hanno bisogno di, hanno esigenze diverse e ci palesano esigenze diverse. Da dove parte però tutta questa considerazione? Dall'ascolto di queste persone. E tutto il tema dell'ascolto attivo e soprattutto dell'ascolto adattivo che abbiamo nei confronti dei nostri dipendenti. Ormai il bocchettone dell'ascolto deve rimanere sempre aperto. Ormai è molto legacy pensare alle engagement survey fatte una volta all'anno. Perché? Perché i giovani tirano la giacchetta dei loro capi per essere ascoltati. E quelli meno giovani non tirano più nessuna giacchetta perché si sono messi un po' come scudo dicendo voi non ci ascoltate, voi non state facendo più delle politiche per noi ma lo state facendo solo per i giovani. Allora dobbiamo ribaltare il paradigma. Non siamo più noi che attiviamo l'ascolto ma l'ascolto c'è. Dobbiamo creare una cultura manageriale vera dell'ascolto. Soprattutto all'interno di società che stanno andando verso una forte fragilità umana dove l'essenza dell'ascolto già di sé è elemento di caring di tutte le persone che abbiamo all'interno della nostra organizzazione. Luca. Dunque mi dice Amelia che ha fatto tirare fuori tirami su. Questa è l'ultima, vi rassicuro. Prima dell'ultima però voglio fare un piccolo break pubblicitario, lo devo fare, ma non è un break pubblicitario. Avete sul vostro sit questo inclusive leadership. Mercer, sapete, è sempre attiva sulla creazione di strumenti di misurazione e sviluppo della leadership. Ci siamo fatti una domanda. Vogliamo vedere al futuro e quali sono gli elementi che caratterizzeranno proprio una leadership inclusiva, dove inclusivo è a tutto tondo, genere, tutto quello che ci siamo detti prima. Laura, Valentina e tutte le colleghe hanno lavorato insieme al nostro team, alla nostra Digital Factory, nella creazione di questi strumenti che stiamo consolidando e ognuno di voi ha la possibilità di fare un assessment online. noi siamo molto bravi negli assessment online e la possibilità di vedere che tipo di tratti di inclusività vi caratterizzano e ci caratterizzano. Per noi arricchirà il nostro database, ovviamente è anonimo, quindi non ci interessa il nominativo e quant'altro. A voi restituirà forse una vista diversa della percezione pirandellesca che abbiamo del noi, dell'essere. Grazie. Sì, l'altro commercial è quello su Global Talent Trends. Abbiamo bisogno di 30 questionari, importante. Abbiamo bisogno di questionari. No, restituiamo capitale intellettuale. Gratis, gratis. No, no, piantiamo l'albero e c'è la presentazione, qua vendiamo le pentole. Cambio Shimano e la presentazione personalizzata di Global Talent Trends. Ebbè, ma poi a un certo punto sul concreto dobbiamo atterrare qui. Dobbiamo andare, dobbiamo andare. No, l'ultima domanda, secondo me interessante, era sul concetto dello smart working e della flessibilità, no? Quindi come, cosa state vedendo sul mercato? Si sta tornando a prima, esisterà ancora 3 più 2, 4 più 1, 36 ore, eccetera. Vi racconto due episodi. A me piace molto il mio lavoro perché mi consente appunto di vedere le, mi viene da dire le peggio cose, ma non essendo romano, dico le migliori, le best practice, situazioni molto variegate. Allora, un mese fa ero negli Stati Uniti, ero a Chicago, bellissima città per chi c'è stato, e mi raccontavano che le aziende non riescono a riportare le persone in ufficio. Downtown, che durante il Covid era stata soprannominata Ghost Town, è rimasta più o meno tale, oggi, eh? Oggi. Quindi le aziende fanno grandissima fatica a riportare le persone in ufficio. E l'ingaggio e l'attraction delle persone è moltissimo legato lì al tema della flessibilità totale, no? Io voglio lavorare come mi pare e dove mi pare. C'hai l'headquarter a Chicago che sei Boeing piuttosto... Io voglio lavorare dalla California di notte e se tu non accetti, arrivederci, grazie. Primo così aneddoto. Ieri, non più tardi di ieri pomeriggio, sono stato in una grande azienda farmaceutica italiana a parlare con la proprietà, quindi non col CEO, non proprio con l'azionista. Ero con Marco Araldi il CEO di Mars e siamo andati a trovare. Visione un po' diversa sullo smart working. Smart working, capelli dritti, sono diventati, ha detto, ma io li voglio tutti qua. Il pensiero, il pensiero deve essere attivo. La collaborazione, la cultura si forma in ufficio. Impossibile, impossibile lavorare da fuori. Una grande azienda farmaceutica internazionale. E dove ci mettiamo in questi due estremi? Ma allora, commentavo ancora prima con qualcuno a pranzo, non possiamo negare, non possiamo negare, perché questo è un fatto, che nei due anni di pandemia i risultati li abbiamo portati a casa. In un modo o nell'altro, con fatica, lasciando qualcosa sul tavolo. Ma l'abbiamo fatto. Questo è un fatto. E se citiamo prima Iveco, Iveco nei due anni di pandemia ha fatto uno spin-off, un monster da CNH e ha fatto un IPO. Quindi le cose sono state portate a casa. Cancellare questa verità è impossibile, quindi significa che è possibile portare risultati anche in un contesto virtuale, totalmente virtuale. Che cosa vediamo noi? Noi vediamo il fatto che dentro l'employ value proposition la flessibilità è diventato un pilastro e quindi le aziende fanno fatica a farne a meno. Quindi io ieri a questa persona un po' di challenge l'ho fatto, provato poi ovviamente. La risposta è stata, estrema di nuovo, non mi interessa. Se una persona è venuta qui per il work life balance e per la politica quattro giorni a settimana di smart working se ne può pure andare che per me è meglio. Questa è stata la risposta. È evidente che se questo è, come dire, la risposta tranchant delle aziende ci si perde talenti e ci si perde forse anche un'opportunità. Questo non gliel'ho detto, evidentemente. Quindi la flessibilità vediamo che è diventato un pilastro e quindi le aziende devono fare i conti con questa cosa. Giusto o sbagliato? Non c'è un giusto o sbagliato, c'è la vostra organizzazione, c'è una filosofia anche retributiva e di offerta overall che ognuno di voi mette a terra, però con questa cosa dal nostro punto di vista ci deve assolutamente fare i conti. Detto ciò, c'è un fantastico tiramisù che vi aspetta, spero anche col caffè, non facciamo i... caffè no, ma dai che barbolo. Caffè, ormai non è l'ora, non è l'ora avere il caffè. Solo tiramisù. Allora vi ringraziamo, io e Alberto, a nome di Mercer, per essere intervenuti e per essere rimasti fino a quest'ora così numerosi, vi diamo appuntamento l'anno prossimo in una location più grande, eh? In una location più grande e grazie a tutti per essere venuti, ci ha fatto molto piacere. Grazie, grazie a voi.